Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori in un momento politico molto delicato, segnaliamo una triste notizia, un gravissimo lutto che ha colpito Donald Trump. Nei giorni scorsi avevamo parlato del dramma, del tycoon, delle precarie condizioni di salute del fratello 72enne, purtroppo in questo video segnaliamo un'ultima ora. La notizia è arrivata davvero poco fa, a 72 anni è scomparso. Robert Trump, fratello minore, del tycoon Donald Trump ha dichiarato, eri il mio migliore amico, ti amo. Ci rivedremo presto amici di Youtube, vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e ciao a tutti!